Ciao a tutti, sono Luca Di Santo del Fatting Club Valle d'Aosta e oggi sono qui per proporvi alcune tecniche che personalmente trovo molto utili in quel combattimento. La combinazione che vi faccio vedere adesso è la seguente. Jeb, diretto al tratto, jeb, low kick. Vediamola adesso nel dettaglio. Allora, apro la mia combinazione portando una serie pugilistica, quindi jeb, diretto al tratto e jeb. In questo modo faccio sì che il mio avversario vada a coprirsi sulla parte superiore, porti lì l'attenzione e chiudo la combinazione portando un calcio alla coscia, con la mia gamba allettata sulla sua gamba avanzata. in questa mattina, ricordandone di colpire bene con la fibia. Vediamola adesso unita. Vediamo ora la tecnica applicata in combattimento. Mi raccomando, seguite la nostra pagina Facebook Fighting Club VDA e visitate il nostro sito www.fightingclub.org Vi aspetto in palestra. Grazie a tutti.